No, no, vai tranquillo, vai tranquillo, è un'opinione che condivido, cioè nel senso per quanto mi riguarda, come ho già più volte espresso, io sono molto più vicino alle idee di Lucas e di Prescott per quanto comunque vada ad apprezzare a Kerloff & Company, quindi ci mancherebbe. Però dopodiché vado ad apprezzare e non vado oltre altre persone, ecco, cioè i modelli neochienesiani possono avere un loro significato, ecco, però i modelli molto più vicini. I neochienesiani il significato ce l'hanno, sono i più post-chienesiani quelli che hanno. Sì, 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 infatti, per quello che dicevo, a Kerloff può ancora andare. Ah, scusami, scusami. Anzi, molti modelli, anzi quasi tutti i modelli delle banche centrali sono basati su modelli neochienesiani e per dire, ecco, cioè, ci mancherebbe, non è che ci vado contro, anzi, for fun, neochienesian nasce proprio dalla critica mossa da Friedman, no? Alla neutralità della moneta o alla non-neutralità della moneta. Quindi poi si riprende un attimo il suo discorso, si inserisce sulla sintesi neoclassica di Keynes, di Samuelson, no? E poi si va avanti. Giusto? Correggimi? L'ho semplificata troppo. No, per più che bene. Giusto per chi non lo sapesse di me e Umberto cosa pensiamo, ecco. Poi, per chi ci segue da tempo è abbastanza conscia la cosa. Assolutamente, però detto questo, ognuno si faccia un po' la sua opinione, io cerco sempre di portare i dati appunto per evitare di far scendere un po' il mio ideologismo. Ma no per poi se nexta до Thie, al quello di cui è sallo Sardeg, najle pate con un po' la sua orientazione molto smalle, Molto problema e un po' la sua torna e un po' la sua intime non correzzi. Myoc recruiting precisa ai una-------- e bloca anche per la solazione. Ma no per poi поч state, sic sequentiale, si face mai un po' la suaorenza, perché magari possono pensare di opportune.